Tutto rimandato a lunedì, quando si riaprirà il confronto con la Farmalab, la società acquirente della biometrica Foscama di Ferentino. Questa la sintesi dell'incontro organizzato dall'UGL a Frosinone nell'ambito della procedura di mobilità dell'azienda farmaceutica. Le preoccupazioni sono legate al futuro degli ex dipendenti. I sindacati chiedono con forza il rispetto delle prescrizioni del bando e, di conseguenza, del nuovo piano industriale, su tutte l'assorbimento dei 30 ex dipendenti della biometrica e non solo di 4 di loro. Ci siamo aggiornati a lunedì pomeriggio, in quanto pomeriggio alle 17 si riapre anche il confronto con la società acquirente, l'SPL, quindi vogliamo verificare se si riescono a trovare i giusti presupposti, i giusti equilibri a quelle che erano le richieste dei lavoratori, che come organizzazioni sindacali abbiamo portato avanti. Quindi aspettiamo l'incontro di lunedì per capire se possiamo riuscire a trovare un giusto equilibrio affinché si possa chiudere questa vertenza con il passaggio dell'azienda nelle mani del nuovo acquirente.